La corsa infinita dell'oro verso l'alto. Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Andremo a cercare di capire insieme quelli che sono i motivi che stanno scatenando questa corsa che sembra non finire mai. Allo stesso tempo ci chiederemo se magari Warren Buffett non si sia sbagliato una dozzina di anni fa in un suo intervento noto quando andò a dichiarare che fosse sciocco, quantomeno lui sceglieva di non farlo. Che cosa? Investire nell'oro? E poi vi andrò a mostrare come un portafoglio che abbia come obiettivo un'ampia diversificazione, un asset allocation diversificata, migliori nel rapporto rischio-rendimento e nella sua frontiera efficiente laddove all'interno dello stesso venga inserito un po' di oro. Quindi iniziamo. Io vi sto mostrando una finestra temporale, ovvero gli ultimi 365 giorni. Stiamo vedendo rispettivamente con la linea quella arancione l'andamento dell'ETC della Invesco, quindi l'Invesco Physical Gold, il famoso SGLD. Uno strumento finanziario molto utile per noi investitori per esporci essenzialmente nell'oro con un semplice clic. E poi vi sto mostrando con la linea blu l'andamento di un grandissimo, famosissimo indice globale, l'MSI World. Quindi stiamo parlando di azioni globali dei paesi sviluppati. Entrambi gli asset se la stanno cavando veramente egregiamente. Io non credevo, se qualcuno me l'avesse chiesto un anno fa di trovarci a questo punto, avevo una visione positiva, magari da qui ai prossimi trimestri, insomma, ma non credevo una roba del genere, sono letteralmente stupito. Inoltre siamo stati abituati tanti tanti anni fa, magari chi è un po' più anzianotto ha vissuto quell'epoca lì, i più giovani magari l'hanno soltanto studiata, ma sappiamo come in passato una corsa furiosa dell'oro verso l'alto continuativa potesse essere esempio un segnale di difficoltà in termini economici, crisi, quindi una reazione in tal senso, oppure poteva darsi che l'azionario per differenti motivi fosse rimasto al palo o fosse sceso. Invece qui stiamo assistendo a una fortissima correlazione di questi due asset. Notevole come l'azionario abbia corso tanto, ma l'oro in questo momento, almeno rapportandolo ad esempio qui a un globale dei paesi sviluppati, stia facendo anche meglio, no? Veramente pazzesco. Io un anno fa decidevo di espormi su degli etici, sta andando alla grande, e qui vedete c'è il gold e c'è anche bitcoin. Due asset diversi tra loro in quanto il primo ha una storia incredibile. L'uomo gli dà valore, riconosce valore, attribuisce valore a loro fin dalla notte dei tempi. Invece se parliamo del bitcoin, in confronto è un asset che è nato ieri, giovanissimo, ancora in esplorazione, dibattuto, amato, detestato, ignorato, oppure sposato quasi a mo' di religione, ma credo fermamente che vi siano dei punti in comune fra questi due asset e proprio quei punti in comune potrebbero essere, in un certo senso, delle ragioni simili per cui questi asset stanno crescendo e potranno crescere ulteriormente nel lungo termine. Ma non voglio parlare qui di bitcoin, continuiamo a parlare dell'oro e andiamo a vedere quelle che sono le ragioni. Perché sta accadendo tutto quanto questo? Beh, l'oro ad oggi è il secondo asset di riserva più grande dopo il dollaro statunitense. Supera l'euro, il 16% delle riserve globali sono in oro, mentre il dollaro rappresenta il 58% e qualcuno potrebbe dire che non è tanto, e insomma nel 2002 rappresentava il 70%, quindi il dollaro sta vivendo un declino in tal senso. Voglio portarvi alcuni esempi, credo che siano infiniti perché tante banche centrali nel mondo si sono mosse in questa maniera qui. Ad esempio, in Polonia abbiamo visto un forte acquisto. Nel secondo trimestre del 2024 è stato uno dei maggiori acquirenti, ok? Per quanto riguarda l'oro, ma queste mosse sono state fatte da paesi africani, dalla Turchia. La Banca Popolare Cinese ha aumentato per 18 mesi consecutivi le sue riserve auree. Poi dallo scorso aprile ho visto si è dato un po' una calmata, diciamo, è andato un po' in pausa, ma le ha aumentate tantissimo, è stato un grande acquirente di oro. La Russia prevede di aumentare gli acquisti giornalieri di oro fino a 93 milioni di dollari. Poi vedremo per quanto proseguirà. Quindi le banche centrali o comunque i governi del mondo essenzialmente hanno fatto incetta di oro negli ultimi tempi. Dopodiché proseguiamo ragazzi e spostiamoci qui all'altra pagina che ho preparato per voi. Allora, altre ragioni, no? O altri ragionamenti. Un terzo ragionamento su cui ci dobbiamo concentrare è addirittura a questo punto il possibile sorpasso nel lungo termine dell'oro sul dollaro. Perché se è vero che i BRICS ormai lasceranno, cercheranno di creare tutto il loro sistema alternativo al dollaro, può darsi che in ogni caso il loro vero asset di riserva principale e dominante diventi sempre più l'oro. Inoltre bisogna chiedersi quali potrebbero essere l'impatto di un ulteriore taglio dei tassi da parte della Fed. Perché questo potrebbe svalutare, questo fenomeno, il dollaro ulteriormente. Inoltre il dollaro index di certo non sta correndo verso l'alto. Secondo alcuni analisti potrebbe scendere a 90 se la Fed continuasse a tagliare i tassi e questo potrebbe stimolare, cioè spingere l'oro addirittura a raggiungere i famosi 3000 dollari all'oncia. Potrebbe anche accadere qualcosa di simile all'argento il quale potrebbe avvicinarsi e toccare i 50 dollari per oncia. Inoltre i tagli dei tassi, laddove fosse evitata una recessione in linea teorica, potrebbero anche riaccendere l'inflazione. Abbiamo visto come sul lungo termine l'oro tende a proteggere gli investitori dall'inflazione, dalla svalutazione continua del dollaro e delle valute fiat. Ovviamente non lo fa in maniera istantanea, non è una protezione, un'assicurazione, si muove all'unisono con l'inflazione. No, magari viviamo un'epoca in cui vi è iparinflazione e poi dopo qualche anno scopriamo che l'oro a un certo punto è iniziato a crescere tantissimo, anche per tante altre dinamiche, ma nel lungo termine alla fine finisce per proteggerci dall'inflazione, insomma. Aumenterà tanto, mentre i dollari che stanno nel cassetto o anche gli euro varranno sempre di meno intesi come potere di acquisto. Detto ciò vi mostro anche un'altra ragione che non ho inserito nelle slide, ma è importante. Cos'è questa piccola immagine che vedete? Sono finalmente aumentati gli afflussi negli ETF che permettono agli investitori nel mondo di esporsi direttamente sull'oro. Il nostro equivalente europeo sono gli ETC, in tal senso quando parliamo di materie prime, e incredibilmente, anche se l'oro stava crescendo tanto nei mesi scorsi, non vi era un afflusso positivo negli ETF o negli ETC sull'oro. Invece negli ultimi mesi sono degli strumenti acquistati, veramente tanto. Quindi prima lo stimolo proveniva, ad esempio, dagli acquisti, mettiamo caso, della Banca Popolare Cinese and Company, ad oggi invece gli acquisti sono anche alimentati da questo fattore. Vi ricordate mesi e mesi fa, in cui vi parlavo di oro, ne ho fatto tante volte, io ci credo, ci ho investito, ragazzi, avete visto quanto ci ho messo? Per mille più ragioni, voglio un asset allocation che funzioni meglio dal punto di vista dell'apporto rischio-rendimento, voglio degli asset che potenzialmente a un certo punto vorrebbero decorrelarsi e questo potrebbe migliorarmi, ma soprattutto sono positivo per l'oro perché taglieranno i tassi di interesse, vi è sempre più massa monetaria, le banche centrali lo stanno acquistando, eccetera, eccetera. E vi dicevo, addirittura, incredibilmente, gli ETF stanno partecipando in maniera negativa, ma prossimamente, altamente, è probabile che partecipino in maniera positiva all'aumento dell'oro. E quindi alla fine si crea questa corsa infinita. Poi non lo so se si andrà a creare una bolla, perché quando un asset continua a crescere senza soluzione di continuità, potrebbe anche crearsi una bolla a un certo punto. Io qui voglio mostrarvi questo video. Non metto play, così non ho neanche problemi eventualmente con i diritti, la monetizzazione, l'algoritmo di YouTube che impazzisce, eccetera. Tanto trovate questo video su YouTube. Sapete come ultimamente vi porti dei contenuti del Mises Institute perché mi piace, sono sempre molto critici, alternativi a tutte quante quelle che sono un po' le dottrine dominanti in termini economici, finanziari, investimenti e così via. E qui questo signore, se volete andate a recuperare il video, tanto guardate il titolo qui, lo recuperate subito, ripeto c'è anche su YouTube, va a dire, va a sostenere quelle che sono le sue ragioni. In ambito a che cosa? Beh, lui dice che Warren Buffett si sbaglia, si sbagliava circa l'oro e così tutti quanti quegli investitori più o meno noti o comunque gli addetti ai lavori che la pensano come Buffett, ovvero che l'oro sia un investimento stupido, sia un qualcosa privo di valore. E va a spiegare quelle che sono le sue ragioni. Io qui ragazzi non vi sto a dire se Warren Buffett abbia ragione o abbia torto, volevo semplicemente segnalarvi questo video, così poi andate a ragionare con la vostra testa, ma voglio in realtà subito farvi intendere una situazione che troppo spesso ho notato in alcuni investitori, i quali giustamente si istruiscono su quelli che sono gli insegnamenti di Warren Buffett, ma commettono un gravissimo errore. Una volta che hanno appreso quelli che sono semplicemente degli aforismi, delle informazioni, hanno letto un libro, hanno usato la sua storia, eccetera, credono di essere Warren Buffett, i nuovi Warren Buffett. E questa è una follia, è del tutto una follia. Quindi noi non pensiamo di essere lui, non pensiamo di diventare abili come uno dei più grandi investitori, uno dei più grandi stock picker della storia in termini di risultati. Non siamo nati nella sua epoca, non abbiamo avuto la sua istruzione, non abbiamo avuto la sua abilità, non abbiamo tutti quanti i contatti che ha sviluppato, eccetera, 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 ragazzi. Quindi io siccome so che non sono Warren Buffett, non sono lo stock picker più grande e bravo del mondo, mi fa piacere nella mia asset allocation avere anche dell'oro. e quindi vi andrò a spiegare quelle che sono le mie ragioni, anche perché non me le invento le cose, mi baso su quelli che sono degli studi. Comunque volevo farvi vedere quello che è successo a loro negli ultimi 25 anni, perché poi le epoche magari cambiano, no? E quindi praticamente l'andamento è stato quello di un grandissimo, un favoloso indice azionario. Qui gli ultimi 25 anni si fia dal 99 ad oggi, quindi è andato anche meglio di un esempio un azionario globale. E' chiaro che se io, qui le evoluzioni 815%, ragazzi, veramente tanta roba, eh? Quindi se qualcuno ci avesse messo per dire 10.000 dollari, ora starebbe a 81.500, non male. E' chiaro che se io vado sui 50 anni, ottengo delle percentuali sicuramente superiori, 1.329, ma notiamo una cosa, un ventennio perduto, cioè dal 1980 al 2000, è stato un ventennio perduto. Come, ovviamente, abbiamo assistito a dei periodi in cui le azioni sono andate malissimo, al famoso decennio perduto, insomma, chi avesse messo i soldi all'inizio del 2000, nell'azionario, beh, più di 10 anni, avrebbe potuto aspettare 13, 14 anni, insomma, dipende come si era esposto. E quindi capite bene che non è male avere degli asset a volte decorrelati, cioè che entrambi nel lungo termine funzionano e si rivalutano tantissimo, ma possono muoversi in maniera opposta quando ci sono degli estremi. Guardate qui, ad esempio, dal 2000 al 2010, che è accelerato incredibile l'oro. Quindi, chi aveva oro in portafoglio, si è protetto rispetto al crollo dell'azionario. Ora qui vi vado a mettere l'indice MSCI World, ragazzi, comunque l'indice globale. Ecco qui quello che è successo dal 2000 al 2010. Vedete, dal 2009, un totale disastro, un dimezzamento delle quote, e qui avevamo invece l'oro che cominciava a correre e non finiva mai di rivalutarsi. E quindi queste decorrelazioni fra i due asset possono anche permettere, in un ribilanciamento che poi deve avvenire, non deve essere per forza ricorrente, ovvero ogni sei mesi, ogni anno, ogni due anni. Si può anche aspettare che un asset abbia corso veramente tanto e uno comunque sia rimasto parecchio indietro. Quindi, in quel caso, perché poi c'è anche magari un capital gain da pagare, eccetera, varrà sicuramente la pena ribilanciare, riportare in equilibrio la propria asset allocation, quella che è la filosofia, quella che è la strategia, e si potrà approfittare di momenti incredibili, ovvero vendere magari a livelli sostenuti un asset e comprare un altro asset che avrà enormi chance di riprendersi, enormi aspettative di potenziare il ritorno, visto che è caduto in disgrazia e quindi uno lo acquisterà basso. Ecco perché, alla fine, i portafogli migliorano nell'efficienza e nei risultati finali, tramite questo approccio. Inoltre sappiamo come gli asset, anche loro, ne abbiamo parlato recentemente, siano stati aiutati tanto dalle politiche della Fed. Perché? Perché è vero che ci sono sempre stati dei sostegni, soprattutto la massa monetaria è sempre aumentata, ma dopo la crisi finanziaria, dal 2008 ad oggi, le politiche a sostegno dei mercati sono state incredibili, dell'economia, quindi tutto il sistema economico finanziario, da parte delle banche centrali, soprattutto da parte della Fed, sono state incredibili, quindi più forti, non si sono mai viste robe del genere e questo ha portato anche a diventare sempre più inflattivo il dollaro e quindi ha sostenuto altri asset che tendono a rivalutarsi invece nel lungo termine. Ora, prima di salutarvi, voglio mostrarvi questo documento, guardate il titolo, cercatelo su internet, scaricatevi il PDF, fate quello che volete, io qua vado a pagina 11, eccolo qui, e abbiamo un portafoglio ben diversificato e qui nel riquadro di destra vi sto facendo vedere il rapporto rischio rendimento del portafoglio stesso, quindi laddove noi aumentassimo la presenza dell'oro, quindi da 0 a 2,5 a 5, a 7,5 a 10%, potremmo aumentare, quindi beneficiare di un miglioramento del rapporto rischio rendimento del portafoglio stesso, dopodiché io se vado qui, vi mostro ad esempio qua nel riquadro di sinistra anche il miglioramento della frontiera efficiente di un portafoglio ben diversificato con la presenza o l'assenza di oro, ecco la presenza del famoso metallo giallo migliora la frontiera efficiente del portafoglio, quindi il rapporto rischio rendimento, eccetera, eccetera. Questo è uno dei tanti motivi che mi hanno portato a scegliere poi una percentuale permanente all'interno della mia asset allocation, inoltre mi sono mosso anche in un momento in cui avevo anche una mia visione specifica davvero rialzista sull'oro e che ho cercato di raccontarvi. È chiaro che se io fossi il più grande stock picker di tutti quanti i tempi, se fossi Warren Buffett e avessi quel tipo di abilità nell'investire su asset produttivi in cui posso leggere i bilanci mi dedicherei a quello e non penserei a nient'altro, questo è ovvio, ma io e voi ragazzi non siamo Warren Buffett, se qualcuno magari lo comprendesse a volte potrebbe anche ragionare in maniera differente di evitare dei disastri. Voglio commentare prossimamente, spero di farlo, un video di Damodaran in cui parlare di tante cose molto interessanti fra cui il fatto che purtroppo e ovviamente lui sarà un estimatore di Warren Buffett ma questo è ovvio, però purtroppo ci sono dei gruppi a volte che si riuniscono di value investor super fomentati i quali non hanno nemmeno tutta quanta questa conoscenza e avendo imparato a memoria due titoli di un libro e dieci aforismi credono di essere Warren Buffett e finiscono nel lungo termine per ottenere dei risultati ben miseri, quindi anche a volte un bagno di umiltà e cercare ai ragazzi di essere un po' più razionali. Fatemi sapere inerentemente a tutto quanto quello che vi ho raccontato ciò che ne pensate, sono sempre molto curioso. Prima di salutarvi ne approfitto per ricordarvi che le iscrizioni al mio percorso formativo superverso con gli ETF scadono domani 30 settembre 2024. Si tratta del percorso formativo che vi aiuterà a costruire portafogli i soldi redditizi con gli ETF ad assimilare i principi chiavi dell'economia della finanza personale e di quella comportamentale. L'obiettivo è diventare autonomi e consapevoli eliminare le banche e ridurre i costi sorbitanti definire quelli che sono i vostri piani per costruire la ricchezza. Si tratta di oltre 65 video lezioni e 25 ore di contenuti condivisione dei portafogli che mi sto costruendo la presenza di decine di PDF e peper a supporto davvero utile e vi sono contenuti e futuri aggiornamenti inclusi a vita. Se siete interessati link sotto in descrizione e o nel primo commento in alto. Se avete apprezzato questo contenuto mettete un bel pollice all'insù iscrivetevi al canale io vi do appuntamento a prestissime lo sapete nel frattempo cosa vi auguro? Beh, il meglio nella vita e negli investimenti. Ciao!